Musica Insieme agli studenti del Buonarrotti abbiamo collaborato e abbiamo realizzato lo scatolotto vero e proprio che vedete presenta un interruttore che fa attivare lo spettrofotometro, una luce, scatta una foto la foto poi successivamente viene inviata all'applicazione che abbiamo sviluppato in precedenza e lì attraverso un server vengono scaricate le informazioni e vengono visualizzate le proprietà del frutto che è stato scansionato. Musica Il nostro progetto rotava attorno alla fusione di intelligenza artificiale e grafica comprende quattro identici loghi degli artigianelli con aldi sopra di essi stampate quattro stagioni sfiorando la mano dietro ognuno di questi loghi si attiverà un circuito che riprodurrà una determinata sinfonia in questo caso è quella di Vivaldi, le quattro stagioni Musica 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 Musica